Generale, io ho venuto subliminare alla fine del rapporto che c'è stata la vicinanza della città di Firenze che da oltre 100 anni ha ospita la scuola, appunto anche nella loro sede. Sì, veramente 98 anni, 1920, inaugurazione della scuola centrale di Firenze via San Camigliano. E non c'è dubbio che pur nella diversità dei conti e la diversità spesso del problema degli eseguamenti non c'è dubbio che si crea un legame forte tra la comunità che ospita i Carabinieri stessi. E questo si vede in tutti gli oltre 5.000 comunitari dove le nostre stazioni sono al servizio della comunità. E a maggior ragione si crea in una grande città come Firenze che nelle sue tradizioni ha anche la cultura, ha anche l'accoglienza, ha anche la compartecipazione di ciò che è l'istituzione e di chi lavora per l'istituzione. Quindi noi siamo lieti, onorati di mantenere la nostra scuola maestrale di Carabinieri a Firenze e ringraziamo la cittadinanza, la città, l'amministrazione nazionale, la cittaduna e consiglio per aver voluto facilitare il migliore inserimento di questa struttura moderna ma antica di valori e messa in vita. Grazie.